I universitari giornalisti New York Light, Lucio del Nord, Marcus Trio, Nalabol, Nitrile, Medusa, Demura in prima fila, in seconda, Italiano GV, Neruda Trio e Memo Rock. Stacco della macchina all'errore di New York Light. Sbaglia anche Marcus Trio, 4 in 3, poi in lotta con dall'esterno, Medusa, Demura, Superanza, Nalabol, Sbaglia, Nitrile. Terza alla corda è Luce del Nord, ha lunga serie di errori, si va dopo il lancio in 15, si presenta Nalabol a chiedere strada a Medusa, Demura e la ottiene per caratteristiche. Terza è Luce del Nord, a precedere Memo Rock, il completamento del primo quarto di gara passato in 39, sposta Luce del Nord. Sulla seconda piegata va su Nalabol, la impegna, l'attacca e la sopravanza. Luce del Nord che è passata in vantaggio all'altezza dei 600 in 46 e 9. Passaggio davanti alle tribune, con Luce del Nord leader nei confronti di Nalabol, sposta a largo Memo Rock. L'errore a parte di Medusa, Medusa, Demura, squalificato. Sono italiano GV e Neruda Trio, 1-1-8, gli 800 metri iniziali per Luce del Nord, si mantiene in netta evidenza, scompare a traguardo lontano, Nalabol saltata da Memo Rock quando si è verso il chilometro, chiuso in 1-17. Luce del Nord è in vantaggio nei confronti di Memo Rock, a metà dritta in fronte, Neruda Trio va in caccia della coppia di testa, metà addirittura opposta. Luce del Nord e Memo Rock hanno netto marge in vantaggio, 14-2 la dritta in là, con Luce del Nord che si mantiene in evidenza, si svincola da Memo Rock. Metà della piegata finale, Luce che ha 1-3 quarti marge nei confronti di Memo Rock, poi Neruda Trio, la retta arrivo con Luce del Nord in largo vantaggio su Memo Rock e Neruda Trio. Luce del Nord che è intoccabile per la compagnia, Luce del Nord e Gloria Zuccaro che vengono a vincere facile, secondo è Memo Rock, al terzo Neruda Trio. 2-1 totale, 1-15-4, la media al chilometro per il successo mai in discussione di Luce del Nord. Memo Zanca nelle vesti di allenatore, i colori della signora Giovanna Bellone, le mani quelle di Gloria Zuccaro.